Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio Ipsos di oggi, giovedì 28 marzo 2024. Fratelli d'Italia torna a crescere di mezzo punto e arriva al 27,5. Il PD cresce di un punto e mezzo e va al 20,5. Il Movimento 5 Stelle crolla dell'1,3 al 16,1. Forza Italia cresce di mezzo punto all'8,6. e sorpassa così la Lega che scende dello 0,2 all'8%. Alleanza Verdi-Sinistra scende dello 0,8 al 3,3. Italia viva il centro 3,3 scende dello 0,1. Più Europa cresce dello 0,2 al 2,8. Azione perde mezzo punto al 2,5. Pace, terra, dignità 1,5. Il PD di Santoro, Italexit per l'Italia 1,5. Democrazia sovrana popolare 1,2. Noi moderati 0,7. Altre liste 2,4. Ma quello che fa scalpore è l'astensionismo che cresce addirittura del 3% al 52,5. Oltre la metà non votano. Grazie a tutti e arrivederci a presto.